Ciao, alcuni di voi avranno attivato il tema scuro su Google Chrome ma si sono accorti che non hanno le pagine web nere. In questo video vi mostrerò come attivare le pagine web nere su Google Chrome. Basta digitare Chrome, due punti, slash due volte, flags e cliccare dove c'è la barra di ricerca cercate Dark. E andate sul primo e selezionate Enable with Selective Inversion of Non-Image Elements. Dopo averlo cliccato vedrete che le pagine saranno nere. Per esempio facciamo una prova con la pagina di WhatsApp. Aspettate che... Ecco come potete vedere la pagina di WhatsApp è diventata nera. Ma non solo questa, anche altre pagine. Ad esempio ne metto un'altra. Ecco come potete vedere è tutto nero. Spero che il video vi sia piaciuto e alla prossima. Ecco come potete vedere la pagina di WhatsApp. Ecco come potete vedere il video. Grazie.